Senta quella in rotazione. Allora, mani al centro, apri bene le gambe, ruota leggermente i piedi verso il centro del tuo corpo, andiamo in rotazione per la colonna dorsale e lombare, quindi bravissima, vai su, inspiro, espiro, scendo. Ispiro, apro, si si si, alterna, ok, vai su, sentirei allungare l'inguine e tutti i muscoli paravertebrali, inspiro, espiro, vai. Ottimo, lascia camminare le mani avanti, posizione del cane a testa in giù, bravissima, allora prima di arrivare completamente alla posizione del cane, iniziamo a molleggiare, esatto, così, ogni volta che pieghi la gamba, l'altra si stende bene e migliori la rotazione del bacino. Esatto, lasciati guidare dal ginocchio piegato, vai giù, giù, voi tenete la testa rilassata, eh, me li io la tengo così ovviamente per correggerti un po', sì, ok, da qui, stendo solo una gamba, quello che riesco, e poi la ruoto dietro come lo scorpione, ok, brava, lasciala andare, lasciala andare e torno al centro, cambio gamba. dalla posizione del cane, porto sull'altra il più possibile, poi la pieghi e la ruoti, sentirei tutto il ventre che si allunga, brava, torno al centro, adesso un po' più intenso, sollevo l'altra gamba, la ruoto, piano piano la lascio cadere dietro, e vado su, e vado su col busto, ok, quindi tiro su, piego, lasciati cadere, brava, su, inspiro, torno al centro, passa, ah, ok, l'altra gamba. il sole del cane, sì, ok, cane, sollevo l'altra gamba, tiro, stretto, piego, scorpione, con molta eleganza e delicatezza, ah, 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 come una ballerina, brava, ah, ah, tira sul bacino, bravissima, torno al centro, ok, da qui pieghiamo le ginocchia, vanno a terra, ok, e apro bene le gambe verso l'esterno, le punte dei piedi sono attaccate al pavimento, ok, brava, vai indietro e avanti, indietro e avanti, ancora, ultima, giù, tiro bene per terra, mi allungo sul pavimento, allungo le braccia, ok, torno su come un'onda, torniamo in posizione del cane, ok, da qui, andiamo in plank, vado giù a terra, andiamo su, cane, testa in su, piego le gambe, brava, rifacciamo da capo, sollevo, cane, cane, i palloni verso il pavimento, giù la testa, ok, mi forzo in avanti in plank, plank, scendo giù, cane a testa in su, cane a testa in su, piego bene le gambe, sentirei i quadricipiti che si allungano, e adesso abbaiate, da qui ruotano a destra e a sinistra le gambe, piano, eh, bravissima, ok, adesso le gambe sono giù, punte dei piedi introruotate, vuol dire che guardano verso il centro, tu ti elevi e giri col busto a destra e a sinistra, bravissima, cerchi di allontanare le orecchie dalle spalle il più possibile, eh, su, ancora non ho imparato a staccarle, tirati bene, dai, sul collo, su, 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 perfetto, torno al centro